Matteo Lupi, presidente di CSV Polis, che significato ha per voi questa firma, questa intesa così particolare con Arte? Credo che sia dentro un percorso che Arte Imperia e Regione Liguria hanno ben interpretato su questo territorio. L'emergenza abitativa è sì un'emergenza, ma deve essere interconnessa nelle risposte anche a quelle che sono altre esigenze delle povertà diffuse. E quindi chi ha un problema con la casa inevitabilmente affronta anche altre problematiche nel proprio quotidiano. E quindi la firma del protocollo d'intesa va a costituire, integrare l'attività che il Centro di Servizi Unico di Arte svolge alla sua utenza attraverso la risposta a altre esigenze, quella del vestiario, quella dell'accompagnamento, quella del contrasto alla solitudine. Quindi diamo risposte coinvolgendo la rete di associazioni sul territorio. Quindi una risposta corale a un problema molto avvertito in tutta la provincia.